buongiorno a tutti oggi siamo a fratte e andremo a scoprire un appartamento veramente unico nel suo genere fratte dista circa due chilometri dal centro città e quello che andremo a vedere a breve è un appartamento molto particolare si tratta di un appartamento di sei vani ed accessori di 176 metri quadricatastali quindi capirete subito che stiamo parlando di un oggetto molto particolare molto bello l'immobile può essere diviso in due unità abitative può essere utilizzato come appartamento studio quindi veramente molto versatile andiamola a scoprire insieme e poi alla fine del video vi dirò il prezzo e Grazie a tutti Bene, a questo punto vorreste sapere il prezzo di questo appartamento, giusto? L'appartamento costa 307.000 euro Ne troverete tutti i dettagli sul nostro sito transillimobiliare.it Chiamateci per fissare una visita perché a breve organizzeremo l'open house Ciao! Comunque io la comprerei Grazie a tutti!